Nuovo video! Ciao a tutti, sono contentissima di fare questo nuovo video ed è un video che veramente ci tengo a condividere con voi, non che gli altri video ma guardate un po' che cosa ho su di me un nuovo pullover fantastico perché oggi vi voglio parlare di Leeds Boutique voi sapete che mi piace andare alla ricerca di nuove marche, di vestiti, di capi particolari alla moda attuale ovviamente, ma che non costino neanche eccessivamente troppo e andando su internet, così casualmente mi sono ritrovata a Leeds Boutique l'ho trovata, ho conosciuto, ho visto un pochettino questo sito, ho sbirciato un pochettino e devo dire che mi sono innamorata subito ho subito amato tutti i capi e quindi ho deciso di fare l'ordine e oggi voglio condividere con voi, voglio farvi vedere tutto ciò che ho scelto allora questo qui è il pullover che come potete vedere ci sono questi dettagli in oro i bottoni, tre su un lato e tre sull'altro ed è comodissimo, è largo però in effetti lo potete mettere anche all'interno qui ho la mia gonna, vi faccio vedere anche questa gonna che è fantastica mi è piaciuta da subito, è in ecopelle quindi voi sapete, amo gli animali quindi ci tengo in particolar modo che non sia vera pelle quindi questa gonna con questi dettagli questa cinta particolare guardate, è molto bella da questa parte dietro è liscio però dietro, giù è tutto pieghettato e davanti invece pieghettato sopra e anche sotto cintura questo maglione in effetti l'ho messo così però in effetti si può mettere all'interno e poi mi piace perché va bene con qualcosa un capo elegante va bene anche con qualcosa di casual questo collo bello comodo particolare ed è veramente avevo paura che questo pullover non potesse essere sapete che molte volte si ordina su internet magari arrivano dei capi che pizzicano la pelle che creano allergie e invece no, è veramente una coccola per la pelle e adesso siete pronti? vi voglio mostrare anche le altre cose ecco qui volare che bello è veramente bellissimo vi voglio guardate questi dettagli qui tutto velato trasparente e poi queste maniche belle larghe lo trovo veramente elegantissimo elegantissimo e poi qui che è diviso in due veli e ho notato anche che è un po' più corto davanti un po' più lungo di dietro questo nero con tutti questi motivi piccolissimi argentati adoro mi piace veramente tantissimo è comodissimo io l'ho abbinato con un pantalone nero ecco qui ho messo un tacco però può andare bene anche per esempio con una cosa opposta tipo un bianco un pantalone bianco o perché no con una gonna mettere per esempio questo all'interno come faccio sto facendo adesso per esempio il pantalone all'interno soltanto anche la parte davanti o anche la parte di dietro insomma è abbastanza bello versatile e l'adoro ma adesso voglio passare a ecco questo bellissimo io lo chiamo cardigan ma in realtà poi vi posso far notare vi farò notare che indossato in un'altra maniera alto che cardigan sotto questo qui come potete vedere con questi motivi bianco e nero decisamente questi due bei colori contrastanti e qui davanti ci sono i bottoni quindi io l'ho così chiuso però appunto si può anche aprire tranquillamente e indossarlo aperto questi cuori questi me lo trovo fantastico perché non è né troppo pesante né troppo leggero eccolo qui io ho messo qui una t-shirt semplicissima un pantalone nero stretching però cosa ne dite così aperto anche così è bello vero? piace è comodissimo non ha quel pelo che pizzica o che dà fastidio a volte che si mette lì sotto il naso no è veramente un piacere proprio anche al tatto però è così dietro semplice e anche questo l'its boutique e voglio veramente dire che sono veramente contenta di aver conosciuto questa boutique perché che dobbiamo dire che è veramente una bella e grande boutique e che dà la possibilità di acquistare online quindi comodamente sul vostro timano potete fare l'ordine come ho fatto io e mi hanno tra l'altro anche fatto questo bel regalino lo mostro magari un pochettino più da vicino è un bel mollettone da indossare da mettere sui capelli io lo appoggio semplicemente così altrimenti sarebbero si possono anche alzarli così mettere con questo bel mollettone un po' più di fantasia io l'ho usato in maniera molto semplice ecco poi vi lascio anche il mio link così potete avere la riduzione e vi consiglio veramente di approfittarne perché a me piace tutto per il momento ho acquistato questo però non vedo l'ora di ordinare altre cose perché c'è questo grandissimo vantaggio economico ma soprattutto la bellezza sono dei capi attuali e sono per essere vestiti alla moda e acquistarli avere questo vantaggio di acquistarli così online secondo me è veramente perfetto anche perché adesso voglio anche un pochettino cambiare il mio stile ho voglia di un cambiamento e Litz Boutique è veramente perfetta ma ora cosa faccio mi vado a cambiare utilizzo sempre questo cardigan ma vi faccio vedere che in una versione completamente diversa pronti? ecco qui questa è una versione un po' più diciamo un po' più femminile praticamente lo utilizzo come vestito ho messo uno stivale come si può vedere uno stivale di quelli lunghi così copre un pochettino la gamba per non dare proprio tutto quell'effetto di nudità ma si può utilizzare tranquillamente come vestito perché lo permette lo adoro allora voglio concludere qui e voglio dirvi una cosa molto importante che tra l'altro ho messo anche i capelli in maniera un po' più selvatica per metterlo questa volta da questa parte capelli raccolti così vabbè e questo l'ho ricevuto il regalo come mi sa che vi ho già detto da Liz Boutique io ho un bel regalo per voi un bel 15% di sconto da utilizzare per i vostri acquisti acquistate guardate scegliete quello che vi piace e approfittate del 15% di sconto con il mio codice che vi metterò nella descrizione e ricordatevi che è un codice da utilizzare per gli articoli che non sono scontati quindi fantastico approfittatene io ho ricevuto questo merci da questa parte c'è scritto per Titi Lifestyle tutto questo per Titi Lifestyle ma lo sconto è per voi soltanto per voi 15% di sconto approfittatene e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao